Il Comando Provinciale d'Imperio Il Tempo di bilanci, come si chiude questo 2015 per i carabinieri in provincia d'Imperio? Diversi gli interventi, i controlli, le pattuglie sul territorio e anche arresti e denunce? Sì, innanzitutto vorrei precisare che più che per l'arma dei carabinieri, per la popolazione si chiude un anno per quanto riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica positivo perché abbiamo un calo dei delitti denunciati, un calo dei delitti commessi, un aumento delle denunce in stato di libertà, un aumento degli arresti, direi anche un aumento della fiducia della popolazione nei confronti dell'arma perché sono aumentate le denunce presentate all'arma dei carabinieri, quindi nel complesso direi che la popolazione della provincia d'Imperio può stare tranquilla. In provincia d'Imperio in particolare furti, ma anche spaccio di stupefacenti, questi sono i dati forse più... Basti pensare che i reati contro il patrimonio sono circa il 40-50% dei delitti denunciati e proprio nei reati contro il patrimonio noi abbiamo un aumento degli arresti, un aumento delle denunce in stato di libertà, un aumento delle denunce di persone che sono state trovate in possesso di oggetti atti allo scasso. Questo significa che l'attività dell'arma funziona, l'attività preventiva dell'arma funziona, ma soprattutto si tratta di furti sventati. Questo anche perché c'è un controllo capillare sul territorio, perché i carabinieri sono capillarmente presenti sul territorio attraverso i comandi stazioni, non soltanto i comandi principali delle grosse città. Certamente, basti pensare che in tutta la provincia noi abbiamo ben 20 stazioni carabinieri. L'arma è presente con ben 15.000 pattuglie che sono state svolte nel corso del 2015, una media di 40 pattuglie al giorno, quindi la presenza dell'arma è forte, è abbastanza consistente. E questa è la traccia anche per quello che sarà il 2016? Beh, diciamo che, tengo a precisare questo, che il 2015 non è un punto d'arrivo. I dati del 2015 non sono un punto d'arrivo. I dati del 2015 sono un punto di partenza per un migliore 2016. Il colonnello Luciano Zarbano, comandante provinciale dei carabinieri d'Imperio, sarà ospite venerdì della trasmissione microfono aperto in onda su Imperio TV alle 21.00. Il colonnello Zarbano illustrerà in modo approfondito la situazione relativa alla sicurezza sul territorio imperiese. E proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine al mercato bisettimanale di Sanremo contro i venditori di merce contraffatta. Stamani le bancarelle sono state presidiate dal gruppo Interforze di Polizia, particolare in un servizio. Controlli serrati del gruppo Interforze al mercato bisettimanale di Sanremo. Decine e decine di uomini appartenenti alla Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale matuziana hanno passato al setaccio alla zona delle bancarelle Levia Adiacenti a Piazzeroe Sanremesi per rendere complicato il commercio di merce contraffatta da parte dei venditori abusivi che affollano solitamente il mercato sanremese molto frequentato in questi giorni di festa soprattutto da parte dei cittadini francesi, alla ricerca costante del capo griffato Fasullo. Un capillare servizio di prevenzione per contrastare il commercio abusivo, per eliminare eventuali situazioni di illegalità, ma soprattutto di concorrenza sleale nei confronti di chi invece paga regolarmente le tasse. La presenza dei militari non sempre però frena gli acquirenti o i venditori stessi che usano ogni sorta di strategia per eludere la stretta sorveglianza. Purtroppo le forze dell'ordine hanno il solo compito di fare vigilanza passiva, non potendo intervenire con la forza per l'incolumità dei cittadini. L'unico modo di contrastare questo fenomeno è risalire ai fornitori dei cosiddetti Vucumpra. Sala Gremito oggi in Camera di Commercio per l'incontro con l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai. Al centro del dibattito i nuovi bandi legati alla PSR, il piano di sviluppo rurale, che prevedono contributi non soltanto per le aziende ma anche per le amministrazioni locali dell'entroterra. Assessore Mai, piano di sviluppo rurale, incontri sul territorio, un po' in tutte le province della Liguria per dire che cosa, per comunicare quali aspetti? Sì, tanto vogliamo spiegare bene che cosa significa piano di sviluppo rurale, quali sono le misure inizialmente aperte, quindi quali sono i bandi a cui potranno accedere i nostri produttori, le nostre aziende agricole e forestali, vogliamo spiegare come spendere anche questi 313 milioni che sono in parte fondi regionali e mi piace sottolineare il fatto che 54 milioni di questi siano proprio fondi della regione Liguria. In una situazione di crisi economica di questo livello io credo che sia uno sforzo notevole quindi a testimoniare anche quanto la regione Liguria creda nel sviluppo agricolo e dell'entroterra come finanzia di fatto questo PSR. Noi abbiamo deciso di fare questi primi 4 incontri uno su ogni provincia entro fine anno per appunto spiegare bene questo PSR e sicuramente ce ne saranno molti altri perché attualmente sono aperte 5 misure che riguardano investimenti, trasformazione, giovani, danni alluvionali e GAL che sono i gruppi di azione locale e poi ci saranno molti altri bandi, circa altri 35-40 che verranno aperti di qui ai prossimi mesi. Quindi un po' tutti i settori dell'agricoltura saranno coinvolti, agricoltura, floricoltura, olivicoltura, viticoltura tutti i comparti? Certo che sì, anche aziende forestali come dicevo ma non solo perché attraverso i bandi del GAL potranno anche essere finanziati i comuni, quindi i GAL che sono questi gruppi di azione locale identificheranno le loro strategie di sviluppo, specie per i comuni dell'entroterra perché di questi si sta parlando in questi bandi sono questi gli assegnatari dei contributi e quindi potranno beneficiarne anche loro ma anche le aziende non prettamente agricole e forestali. Si parla di uno sviluppo a 360 gradi e questo è quello che serve in questo momento così difficile per la nostra economia. Consigliere Alessandro Piana le sta accompagnando l'assessore Mai in questo giro soprattutto qui nel territorio imperiese che la vede partecipe in prima persona in particolare per quello che riguarda l'entroterra e le produzioni agricole. Sì, questo diciamo che è il primo mi auguro di una lunga serie di incontri che l'assessore sarà disponibile ma a grado i suoi impegni istituzionali a fare sul nostro territorio per poter spiegare quelli che sono i bandi del PSR che via via ogni volta apriranno. Non dimentichiamoci che è un PSR importante che crea molte aspettative in un settore fondamentale come quello dell'agricoltura ma non solo, anche perché è un volano di sviluppo per quanto concerne l'edilizia, per il settore tecnico e anche per quello ambientale. Abbiamo visto molti amministratori comunali presenti oggi, è un segnale di interesse dei comuni. Sì, è importante perché nel PSR sono previste anche misure a sostegno per quei comuni dell'entroterra che cosiddetti svantaggiati, dimentichiamoci che noi in provincia di Imperia su 67 comuni circa una cinquantina fanno parte della fascia dell'entroterra e hanno bisogno di sostegno da parte di una misura importante come quella del PSR. Sono circa, per quanto concerne la regione Liguria, 315 milioni di euro, 175 con finanziamento regionale e nazionale e 145 circa che arrivano da lui. Sono tante le aziende che ci aspettano un aiuto concreto da parte nostra. Noi, come compagine politica e come amministrazione di centro-destra, non possiamo fare altro che, vista la situazione economica e sociale che nel nostro paese e soprattutto la nostra regione sta attraversando e il nostro aiuto e sostegno sarà quello volto quindi a facilitare per quanto riguarda l'istruzione delle domande e soprattutto ad accorciare i tempi di pagamento rispetto a una serie di investimenti che gli imprenditori faranno in questo importante settore. Come annunciato è stato firmato oggi nello studio del notaio Franco Amadeo d'Imperio il contratto di affitto della Porto Spa da parte della Go Imperia, valido per tutto il 2016. Il 60% dei canoni che la Go verserà saranno conteggiati quali anticipo del prezzo di acquisto della società. In questo modo a fine 2016 saranno stati anticipati 288 mila euro. Dai primi giorni del 2016 l'amministrazione comunale lavorerà poi alle garanzie bancarie per riformulare un'offerta di acquisto maggiormente pregnante verso i curatori fallimentari della Porto d'Imperia. Intanto stamattina l'aggiunta comunale ha anche dato il via libera definitivo alla fusione per incorporare imperi e servizi all'interno della Go Imperia che si concluderà il prossimo giugno. Oltre al porto turistico quindi la società comunale gestirà anche i parcheggi pubblici. E con la fine dell'anno il presidente della provincia d'Imperia Fabio Natta ha voluto tracciare un bilancio dei primi otto mesi di attività dell'amministrazione nata dalla riforma delle province. Natta ha anche fatto riferimento alla dedicata questione del personale dell'ente. Sentiamo. Presidente Natta, allora il bilancio di questa attività amministrativa da presidente della provincia in una provincia totalmente modificata, rinnovata, cambiata. Sì, siamo qui a fare un bilancio dei primi otto mesi. Ovviamente dobbiamo partire da un presupposto, io direi partiamo dalla fine. Da quello che è successo ieri a Roma sono stati stipulati gli atti di cessione di due immobili per un incasso da parte della provincia di oltre 6 milioni di euro che sono quella famosa cifra che hanno consentito di chiudere il bilancio in pareggio cioè di evitare, poi il consultivo ovviamente per quanto riguarda il 2015 sarà fatto poi nel 2016 ma diciamo che quel disavanzo che era superiore ai 5 milioni e mezzo di euro che sembrava incolmabile è stato colmato. In questi mesi la provincia però non si è fatta paralizzare dal fatto che ci fosse questo buco né dal fatto di aver dovuto trasferire numerose, oltre alle funzioni, numeroso personale a regione quindi anche il personale della provincia è diminuito di una circa settantina di unità in quest'anno dato non trascurabile. Ecco, l'incertezza sul futuro, il buco di bilancio, il trasferimento del personale non hanno impedito a provincia di fare quello che deve fare, cioè di garantire alcuni servizi fondamentali al cittadino. Ecco, sul personale c'è ancora da vedere la polizia provinciale che a futuro avrà, state facendo degli incontri in questi periodi? Sì, abbiamo due partite ancora aperte, parecchie partite aperte, le due più significative sono quelle sui centri dell'impiego che si sta definendo, io direi che si sta definendo bene. Sulla polizia provinciale anche questo è stato oggetto di modifiche normative che si sono susseguite nell'arco degli ultimi mesi il nostro corpo di polizia provinciale ha una sua dignità, svolge dei compiti molto importanti l'intenzione dell'amministrazione è quella di salvaguardarlo stiamo discutendo con Regione per verificare la possibilità quantitativa più che altro degli agenti di polizia provinciale che Regione prenderà, diciamo, con forme meglio viste per garantire alcuni servizi fondamentali, tipo quello della tutela ambientale contiamo di arrivare a una definizione complessiva del corpo entro breve termine perché abbiamo la scadenza del 31 di gennaio che incombe per garantire una dignità a questo corpo e soprattutto una qualità ai servizi che ancora continua a svolgere Per quello che riguarda la manutenzione delle strade avete preso anche una recente delibera qualcosa si riuscirà a fare? Sì, diciamo che aver colmato il buco di bilancio ha consentito anche di reperire alcune risorse da utilizzare soprattutto per i servizi essenziali, scuole e strade e sulle scuole abbiamo fatto degli interventi di messa in sicurezza urgenti e abbiamo cominciato a fare una programmazione anche di interventi futuri per quanto riguarda le strade anche qua partiranno in primavera una serie di lavori importanti in questi ultimi giorni dell'anno sono ripartiti gli asfalti sulle strade provinciali non tanti, diciamo, andare a sanare situazioni di emergenza però è un segnale positivo in un momento di crisi che dopo 5 anni, oltre 5 anni di assenza di interventi di bitumi, siamo tornati con gli asfalti sulle strade sugli oltre 800 km di stade provinciali Tradizionale incontro con la stampa questa mattina a Roma per Matteo Renzi il Presidente del Consiglio nella conferenza di fine anno ha ripercorso l'attività del Governo svolta nel 2015 e ha indicato gli obiettivi per il 2016 Sentiamo uno dei passaggi più significativi Voglio dire che se il 2015 è stato l'anno delle riforme tra l'altro vorrei segnalarvi i dati dell'attuazione del programma che il competente Ministero ha spesso evidenziato una volta alla settimana durante i consigli di Ministri perché leggo anche in questo caso dei numeri che mi piacerebbe discutere con voi adesso non è forse il tempo ma insomma negli ultimi tre governi siamo il governo che fa meno decreti legge guardate la produzione normativa mensile siamo il governo che ha il più alto tasso di attuazione dei decreti attuativi dei provvedimenti e il più basso numero di decreti che vengono contemplati dalle norme che facciamo cioè stiamo riducendo la produzione normativa in particolar modo dei decreti attuativi crescono i provvedimenti auto applicativi però dicevo se il 2015 è stato l'anno delle riforme il 2016 sarà l'anno dei valori questa legge di stabilità che è stata considerata una legge piena di mance e mancette è una legge che mette denaro sulla scuola sull'università sulla ricerca sulla cultura sugli ideali sul terzo settore sul servizio civile abbiamo fatto un anno e mezzo totalmente parlando di riforme 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 e come vedete possiamo portare dei risultati adesso io vorrei raccontare insieme a tutte le italiane e italiane che cos'è l'italia in termini di valori di bellezza di richiamo che ha in tutto il mondo naturalmente dipenderà molto da quello che riusciremo a fare tutti insieme c'è un indice di fiducia che è spaventosamente alto oggi ho letto dei flash di agenzia che crolla o cade l'indice di fiducia vorrei ricordarvi che l'indice di fiducia dei consumatori è 117,6 e delle imprese 105,8 leggermente in calo di qualche decimale rispetto al mese di novembre che era stato registrato prima degli attentati di Parigi siamo a 117,6 un anno fa eravamo a 97,4 oggi si dice cala l'indice di fiducia un anno fa era 20 punti più basso e quando noi siamo partiti al 94,5 insomma c'è un paese che si sta rimettendo in moto naturalmente siamo pronti a fare tante cose sperando di farle ancora meglio nel prossimo anno quello che voglio augurare a tutti e a tutti voi è un anno che sia all'insegna della libertà di informazione che è un grande valore che l'Italia ha serata ad Arcore ieri per gli assessori di Forza Italia della Giunta regionale guidata dal Presidente Giovanni Totti presente anche l'assessore imperiette Marco Scaiola l'occasione è stata quella di scambiarsi gli auguri di buone feste con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi tra un brindisi e l'altro è facile che nell'ex Presidente del Consiglio si sia parlato dell'attuale situazione politica nazionale della realtà Ligure ed è stato effettuato il primo viaggio sperimentale del treno non stop che collega Genova Principe con Milano Centrale l'obiettivo è quello di unire i due capoluoghi in un'ora di tragitto per questo progetto è stata anche siglata una lettera di intenti da parte dei due governatori Giovanni Totti e Roberto Maroni che sarà ora consegnata al Ministro Graziano Del Rio sentiamo è stato effettuato il primo viaggio sperimentale del treno non stop partito da Genova Principe e giunto a Milano Centrale un viaggio sperimentale cui ha preso parte tutta la Giunta Totti e il governatore della Lombardia Roberto Maroni insieme ai vertici delle ferrovie l'obiettivo è quello di costruire un percorso per arrivare con la prossima primavera a sette collegamenti di treni giornalieri per unire i due capoluoghi questa è una scommessa ha detto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Totti è la prima prova di un convoglio che può collegare Genova e Milano in modo diretto in un tempo che noi ci auguriamo stia tra un'ora e venti e un'ora e cinque minuti oggi grazie alla collaborazione della Regione Lombardia che ha svolto un ruolo importante in questo viaggio sperimentale e anche grazie alle ferrovie e al fatto che crediamo in un progetto comune che coinvolga i due capoluoghi contiamo di poter arrivare entro 18 mesi a concretizzare questo progetto per renderlo attuativo i due governatori hanno firmato una lettera di intenti che verrà portata nei prossimi giorni all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio per riuscire ad ottenere quegli investimenti necessari a sbloccare i nodi sulla rete ferroviaria per consentire il collegamento entro l'ora chiediamo a Del Rio hanno detto Totti e Maroni un tavolo che coinvolga le due regioni i operatori e i gestori della rete per superare i quattro nodi che impediscono attualmente di raggiungere la massima velocità in corrispondenza di Milano-Rogoredo Roncoscrivia, Tortona e la Galleria dei Giovi i costi saranno suddivisi tra le due regioni due terzi la Lombardia e un terzo la Liguria e il restante a carico di RFI e del governo l'esperimento è riuscito e vede tutti completamente concordi ha detto il presidente della regione Liguria Giovanni Totti ora c'è stato un avvio simbolico contiamo molto sul fatto che vada a buon fine grazie anche al ruolo di fratello maggiore svolto dalla regione Lombardia e all'impegno di governo RFI non possiamo aspettare che il terzo valico si concluda passerebbero altri sette anni e il rischio sarebbe quello di assistere ad un intensificarsi del deserto produttivo e sociale il convoglio dimostrativo è composto da 10 carrozze e 520 posti a sedere si tratta di un tipo di treno che già percorre tratte interregionali collegando la Lombardia al Piemonte un treno risalente al 2014 che può toccare punte di 160 km orari e 140 in galleria sarebbe un bel regalo per i Liguri e per i Lombardi ha concluso Totti avere finalmente collegata l'area più produttiva del paese che vale circa il 20% del nostro prodotto interno lordo che potrà portare in Liguria una serie di attività e interconnessioni che oggi non esistono 400.000 euro per i minori affidati all'autorità giudiziaria in strutture sociosanitarie sono stati stanziati dall'Aggiunta regionale su proposta della Vicepresidente Sonia Viale le risorse saranno assegnate ai distretti sociosanitari per quelle strutture nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la ripartizione dell'importo è in base alle spese sostenuti dai comuni stessi per gli interventi nel 2014 la somma stanziata oggi è il saldo del 50% del totale disponibile di 800.000 euro la capogruppo del Partito Democratico in Regione Raffaella Paite e il consigliere del PD Pippo Rossetti hanno incontrato il prefetto di Genova denunciando il comportamento della maggioranza di centro-destra tenuto in occasione della discussione sul piano casa secondo i due esponenti di opposizione la maggioranza non ha permesso che si tenesse un adeguato dibattito in consiglio regionale preferendo contingerare i tempi della discussione sul disegno di legge indagini in corsa d'imperio dopo la caduta di una ragazza di 15 anni dal secondo piano di una palazzina l'incidente è avvenuto questa notte in via Irenti la giovane è stata portata in ospedale dove è rimonitorata dai medici ora le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto per cercare e accertare le cause della caduta facciamo una breve pausa ci sentiamo subito dopo nuove polemiche a Sanremo per la gestione del campo di atletica scatenare le critiche verso il comune è stata ora la decisione di chiudere l'impianto per 10 giorni da Natale al 3 gennaio togliendo così la possibilità ai giovani atleti di preparare adeguatamente le gare e ai turisti giunti in riviera di utilizzare le strutture in queste giornate di bel tempo sentiamo inutile non c'è pace a Sanremo per il campo di atletica dopo le numerose polemiche per il sovraffollamento e sovrapposizione di allenamenti a causa dello spostamento nella struttura di molte discipline sfrattate da Villa Ormond per lasciare spazio alla RAI ora l'attenzione continua a rimanere sull'impianto sportivo a causa della chiusura per le feste il campo è gestito ora da una cooperativa a cui il comune di Sanremo ha affidato l'incarico è infatti attualmente chiuso i cancelli della struttura di Pian di Poma sono stati chiusi prima di Natale e riapriranno solo dopo Capodanno uno stop di dieci giorni si dice neanche segnalato con appositi cartelli che ha fermato di blocco la preparazione sportiva in vista di appuntamenti atletici importanti nel mese di gennaio ovvero nelle prossime settimane sono infatti in programma tre gare di corsa campestre valide come prove del campionato regionale sia individuale sia squadre gli atleti di Sanremo sono quindi costretti a non poter utilizzare la struttura sia la pista in Tartan sia la palestra e a spostarsi o in altri campi come Imperia e Vallecrosia oppure a correre sulla ciclabile in pratica per dieci giorni si dovrà andare a correre sulla pista d'Imperia e a saltare sulla pedana di Camporosso ha infatti detto il presidente della società FOCE Vittorio Bertellotti ma oltre all'aspetto puramente sportivo agonistico a scatenare le polemiche c'è anche la filosofia di fondo in un momento di vacanza una struttura sportiva all'aria aperta grazie anche al bel tempo degli ultimi giorni avrebbe potuto accogliere turisti sportivi che sono giunti in riviera per le feste di Natale lo stesso presidente della società FOCE ha infatti segnalato la presenza di alcuni podisti tedeschi che come ogni anno sono giunti a Sanremo per trascorrere le festività sfruttando ed apprezzando il campo di atletica insomma una nuova occasione persa a volte basterebbe poco ed una maggiore sensibilità in questo caso sportiva per evitare brutte figure e andare magari anche incontro alle esigenze dei giovani atleti sanremesi che per fortuna praticano sport e non sono attirati da altre cose diciamo così meno belle la nebbia sull'aeroporto di Pisa ha costretto ieri al dirottamento di numerosi voli nello scalo di Genova nel capoluogo Ligure sono così giunti 2000 passeggeri in più rispetto ai normali collegamenti aerei vediamo nebbia e bassa visibilità sin dalle prime ore di ieri mattina in particolare sull'aeroporto di Pisa hanno costretto numerosi aerei diretti allo scalo toscano a dirottare verso l'aeroporto di Genova sono stati coinvolti voli provenienti da Amsterdam, Bruxelles Bari, Brindisi Londra, Istanbul Madrid La Mezzia Terme Catania, Alghero Budapest e Girona oltre 2000 i passeggeri dei voli dirottati sbarcati a Cristoforo Colombo il personale dell'aeroporto di Genova ha garantito la massima assistenza limitando i disagi al minimo nonostante il forte afflusso di viaggiatori che si sono sommati a quelli in arrivo con voli diretti allo scalo del capoluogo Ligure in quasi tutti i casi i passeggeri dei voli diretti a Pisa sono stati fatti sbarcare a Genova e hanno proseguito il loro viaggio via terra mentre due voli sono potuti ripartire alla volta dello scalo toscano con i passeggeri a bordo grazie a un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sull'aeroporto Galileo Galilei scendono i prezzi dei carburanti nei distributori italiani lo dicono i dati elaborati dal quotidiano Energia in base alle comunicazioni effettuate all'osservatorio dei prezzi del Mise vediamo mercati internazionali dei prodotti petroliferi in ripresa nelle due sedute precedenti al Natale ritorna la calma nei prezzi raccomandati sulla rete carburanti italiani dopo i ribassi arrivati fino al giorno della vigilia con esso che ha tagliato il diesel di due centesimi al litro sul territorio italiano intanto prosegue senza sosta la discesa dei prezzi praticati più in dettaglio in base all'elaborazione di quotidiano energia dei dati comunicati dai gestori all'osserva prezzi carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde va a seconda dei casi e dei marchi da 1,429 a 1,494 euro al litro per il diesel si rilevano prezzi medi self che passano da 1,247 a 1,311 euro al litro quanto han servito per la benzina i prezzi medi nazionali praticati sugli impianti vanno da 1,493 a 1,608 euro al litro il diesel da 1,331 a 1,433 euro al litro e il GPL da 0,577 a 0,615 euro al litro Sala Gremita ad Andorra per l'incontro con Gino Paoli ospite di recessione dell'inaugurazione della mostra mare a Palazzo Tagliaferro dopo aver coinvolto il pubblico presente raccontando del mare come presenza evidente e ispiratrice dei suoi pezzi soffermandosi sul lungo lavoro di composizione delle canzoni il cantautore genovese ha ricordato i suoi esorti come pittore e grafico Paoli ha poi inaugurato la mostra che rimarrà aperta fino al 29 febbraio si è tenuta a 20 miglia presso i locali dell'oratorio della chiesa di San Nicola da Tolentino il pranzo della pace un appuntamento dedicato ai ragazzi richiedenti asilo già ospiti presso le strutture delle associazioni del nostro territorio e i poveri della città l'amministrazione di 20 miglia ha voluto donare il pranzo a migranti e meno fortunati creando un'occasione di incontri e di condivisione che si è tramutati in una serata in compagnia evento particolare domani a Sanremo dove dalle 14 alle 18 in piazza Borea Dolmo andrà in scena la connessione in uno sguardo si tratta di un esperimento nato in Australia a volte a mettere in connessione le persone tramite una comunicazione non verbale ma attraverso sguardi sorrisi e abbracci l'evento consisterà infatti nella condivisione di un minuto a poco più occhi negli occhi con uno dei ragazzi posizionati su sedi o tappetini nella piazza sempre domani dalle 15.30 a Bussane previsto lo spettacolo finalmente è Natale a cura del teatro dei miliocolori con gag divertenti e prove di abilità di magia natalizia ed è in fase di allestimento a Sanremo il palco di piazzale Vesco che dalle 22.30 di giovedì ospiterà l'atteso concerto di fine anno dei Ludolphin il concerto si interromperà a mezzanotte per lasciare spazio all'immancabile spettacolo Tripudio di luce a Porto Vecchio al termine del quale riprenderà per accompagnare i presenti verso il nuovo anno Bene, ora vediamo gli appuntamenti di Riviera 20 poi ci occuperemo dell'autostrada dei fiori e del quadro meteo a Porto Vecchio a Porto Vecchio a Propo Vecchio a Porto Vecchio a Monter metro 직ale Sulla 10 autostrada dei Fiori nel tratto Savona, confine di Stato, nel periodo delle festività di Natale e Capodanno, sono stati sospesi tutti i cantieri. Per quanto riguarda i lavori di adeguamento sismico al viadotto Liveto 2 in via Francia, gli utenti provenienti da Genova dovranno fare molta attenzione e rispettare i limiti di velocità indicati. Le limitazioni di velocità avranno validità fino alle ore 8 dell'11 gennaio 2016, salvo anticipato termine dei lavori. Chi si mette in viaggio potrà avere informazioni utili attraverso pannelli a messaggio variabile collocati su tutto il percorso e che segnalano in tempo reale eventuali ostacoli alla circolazione. Vediamo le previsioni del tempo con ARPAL Meteo Liguria domani è mercoledì 30 dicembre. Deboli piogge sparse e residui nelle ore notturne. Un deciso ingresso di ventilazione secca settentrionale porta a un miglioramento delle condizioni meteo con tempo in prevalenza soleggiato, disturbato da locali addensamenti residui. Calo delle temperature più spiccato dalla serata. Umidità su valori medio-bassi, venti in rotazione e rinforza settentrionali fino a forti con isolate raffiche sui crinali e in particolare sul centro ponente. Il mare sarà mosso a Levante, trammosso e molto mosso a Ponente. La protezione civile segnala venti settentrionali forti tra 50 e 60 km orari sul centro ponente con isolate raffiche. Dopodomani, giovedì 31 dicembre, in mattinata ancora tempo soleggiato, accompagnato da temperature minima in ulteriore calo. Nel pomeriggio attenuazione della ventilazione settentrionale, nuovo aumento della nuvolosità nei bassi strati. Umidità su valori medio-bassi, venti settentrionali fino a moderati nelle prime ore della notte. Segue una rapida attenuazione con venti in prevalenza deboli e variabili nel pomeriggio. Il mare sarà in calo a partire da Levante, con un mare poco mosso ovunque, dal tarto pomeriggio. Ed è tutto, grazie come sempre per averci seguito, ci sentiamo alle prossime edizioni. Grazie per l'ascolto, buona serata. Grazie per l'ascolto, buona serata. Grazie a tutti.